Mi sono fatto male l'altro ieri a San Patrignano, abbiamo fatto una partita Non hai fatto proprio a meno, neanche due giorni prima Non mi ero mai fatto male giocando a calcio, ovviamente Senti Sant'Enrico, tu festeggi 20 anni di carriera quest'anno, 1973 teatro San Fedele, 1900 Aspetta, avevo 16 anni Ma va bene, comunque sono sempre 20 anni di carriera No, perché quando si comincia a celebrare poi è già il momento Hai fatto tantissime belle canzoni, però quest'anno sei un po' tornato al rock dei tuoi osordi, come mai? Ma io sono un curioso, quindi ho scritto cose molto diverse tra di loro Questa volta c'era questa canzone che mi sembrava abbastanza poco sanremese per essere portata qui Buona fortuna Grazie La canzone si intitola Mistero di Ruggeri Canta Enrico Ruggeri, dirige l'orchestra, il maestro Vittorio Cosma Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore Alla persona che vorremmo fare rimanere E ci facciamo male, se la pressione sale Poche parole ci precipita il morale giù Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si muore davvero? Il gioco si fa duro e non si può dormire E non sappiamo più decidere se ripartire E batte forte il cuore, anche per lo stupore Di non capire l'orizzonte che colore ha Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si ama davvero? Mistero Abbiamo già rubato Abbiamo già pagato Ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato Ma pace non abbiamo Nemmeno lo vogliamo Nemmeno il tempo di capire che ci siamo già Cos'è che ancora ci fa vivere le pavole? Chi sono quelli della foto da tenere? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si ama davvero? Mistero Sarai sincera, dimmelo, dimmelo Sarai sincera Dipende il mestiere di vivere solo mistero E c'è Dipende solo da te Prendere la mano è facile La verità che la vita ti dà È una fredda carezza Nel silenzio che c'è Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si ama davvero? Mistero Quanto si chiede? Quando si dà? Quando si ama davvero? Mistero Mistero Grazie Enrico Ruggeri Mistero Mistero Per Enrico Ruggeri Ecco la sua foto Adesso apparirà E il pubblico dei votanti Ha espresso già Il voto